ciao ragazzi siamo tornati con il nostro 15 minuti per i over direttamente al letto in forma con gil forma con gil è sempre una voglia di spronarvi ad essere il massimo da voi stessi in tutti i sensi e io sono convinta che per essere massimo da noi stessi noi dobbiamo assolutamente partire dall'allenamento perché l'allenamento che cosa ci dà amici l'allenamento ci permette di essere sempre più forte quando i muscoli sono più forti noi ci sentiamo più capaci ok più capaci per affrontare i problemi più capaci di magari di fare una camminata o fare la spesa usciti di casa perché lo sport ci dà autonomia autonomia muscolare ok oggi per il nostro allenamento andremo in cominciamo in quadrupedia ok mi metto le mani giù e comincio a portare la gamba lateralmente spettami sposto mio cuscini che mi stanno pizzico in di entraccio mettetevi bene siete a camera di letto siamo pronti 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 per cominciare su e giù questo movimento è fatto con calma e tranquilla e rimango su per un attimo prima di scendere le facciamo 8 7 e 6 e 5 4 e 3 2 1 continuiamo 8 7 e 5 la cosa bella che comunque quando ti sta allenando veramente basta poco cominciare a sentire il lavoro scendi giù stiracchiti indietro piccolo ricupero prima di rifare 28 dall'altro lato mi poggio e salgo con quella gamba per 28 su e giù proviamo di non inarcare troppo la schiena proviamo semplicemente di portare la gamba lateralmente verso alto schiacciando schiacciando e scendendo schiacciando e scendendo uno e scendo e due e scendo tre e quattro ancora cinque sei sette otto datemi ancora otto otto sette sei cinque quattro tre due ricupero chi sente i glutei chissà già sentendo il lavoro io e se lo sento io lo state sentendo voi almeno me l'auguro altrimenti se siete veramente forti se veramente forti vi inizio nella mia palestra online dove facciamo il peso e il calo estenico ma qui sono per i miei amici over che devono cominciare e come si sente il muscolo si sente il muscolo partendo con un'intenzione no schiaccio e scendo freno e scendo non andare in velocità perché se vado in velocità potrei rubare dal movimento non vuoi rubare dal movimento voglio innanzitutto proteggere l'articolazione e la schiena quella è la base di tutto e voglio risvegliare dolcemente i miei muscoli senza strappare e tutto questo va fatto con calma e anche con la velocità giusta la giusta quella che mi viene la velocità giusta continuiamo otto e scendo sette e scendo sei ancora cinque e quattro e tre e due e stop due otto glutei attivati li senti ricupera le puoi recuperare in qualsiasi posizione che per te è consona al ricupero ritorniamo su e cominciamo dall'altra parte otto e scendo schiaccio scendo schiaccio scendo e schiaccio rispio ancora quattro volte tre volte e due volte ancora otto e vai otto scendo sette sei cinque quattro tre due e stop ricupero i glutei e chi vuole la bella notizia la bella notizia la dobbiamo ancora fare e uno dice ma che bella notizia ho già sentito i glutei prima questa non è una bella notizia notizia una cattiva notizia no la bella notizia che se insistiamo per un'altra volta i glutei diventeranno sempre più toniche sempre più alti e sempre più alti e sempre più alti e sempre più alti più potenti un bel gluteo su giù non è soltanto una questione estetica un bel gluteo ci aiuta a fare la scale ci aiuta a camminare meglio ballare meglio saltare meglio bel sostegno anche per la schiena per la postura e così fortificando il gluteo ci aiuta a riempire in modo giusto il nostro pantaloni e dall'altra parte ci dà un grande sostegno posturale posturale datemi ancora 8 8 scendo 7 scendo 6 5 e 4 e 3 e 2 e stop altro eccellente notizia e questa sarà l'ultima volta di questo lato 2 8 poi cambiamo esercizio così uno dice già vede l'orizzonte no vedi la meta vede il diciamo la linea di arrivo andiamo 8 scendo il voglio sempre quello fermo in su dove sentite la contrazione prima di scendere su e scendo datemi altre 4 e 3 e 2 e 1 altro 8 8 e scendo 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e 1 ok recupero un po un po e l'altra cosa ricordate che questi sono esercizi che devi fare quelle che ti sentite fare se tu arrivi a un certo punto magari fai 8 e dice gil me la sento troppo perché sono principiante ti fermi mi aspetti ritorniamo insieme in 15 minuti fai quello che puoi senza esagerare ok prossimo movimento ci mettiamo con i gomiti giù stendo le gambe dietro di me a un angolo retro vedi che c'è proprio il piede a martello le gambe su e comincia a fare piccole pressioni verso alto e lo facciamo per 3 8 2 3 4 5 6 7 8 ancora 2 8 guardami la schiena non si sta muovendo la schiena non sto flettendo la schiena sto facendo una pressione verso alto proprio per aiutarmi con i glutei ancora per 4 3 2 ultimo 8 8 7 6 5 4 e 3 e 2 e stop le cose belle che voi sarete veramente sorprese quanto anche solo 15 minuti ben fatti a letto ti possono il giorno dopo farti sentire che hai lavorato cioè il bello è questo cioè ci mettiamo ci facciamo uno dice va bene ce lo faccio sono pochi minuti a letto ce lo faccio ma poi domani te la garantisco che la sentirai allora di nuovo gomiti giù fletto l'altro piede che sale a 90 gradi e comincio a fare la pressione in su schiaccio in su 8 7 6 5 4 3 2 guarda la schiena non si muove è il gluteo 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 che si contrai è quello che solleva la gamba ultimo 8 7 6 5 4 3 e 2 stop recupero come abbiamo fatto 3 volte per l'altro lato dobbiamo fare 3 volte per questo lato a me piace esercizi concentrati mirate concentrati lenti perché poi alla fine la biomeccanica è quello che non è che l'hanno reinventato il corpo umano le muscoli per biomeccanica quando si contraggono spostano una leva che sarebbe la vostra ossa e così noi stiamo facendo cose che spero lo sentite bene sulla schiena se nel caso che non ti piace tenere i gomiti giù potete mantenere la braccia tese la cosa importante è che non mi inarcare la schiena io secondo me per non inarcare la schiena è più importante di tenere i gomiti giù scacciando il piede a martello verso alto contraendo il gluteo grandi sorrisi lo so che state facendo un bel lavoro rilassare il collo rilassare le spalle non appoggiare troppo peso sulle braccia vai indietro spingi su la ginocchio di sostegno datemi ancora 8 7 6 5 schiaccia 4 e 3 e 2 e relax scendo giù ricupero e potete sempre anche tenervi acqua vicino al tuo letto anche bere l'acqua magari la tenete già durante la notte per bagnarti la gota e magari si svegli quando c'è bisogno di bere però la verità è questo fuoco la mattina appena svegli ti cambia la giornata così appena svegli memorizza questi 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 video mettali non lo so sulla vostra baccheca risensabili ritorna o sintonizzati sui miei canali per seguirmi perché sono tutti esercizi super performanti per darci i risultati ancora 2 8 8 7 6 5 4 3 2 ultimo 8 8 7 6 5 in 4 e in 3 e in 2 e in 1 e io spero tanto 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 che restati sentendo proprio quella concentrazione concentrazione la concentrazione sul gluteo concentrazione sul lavoro che state facendo libertà della schiena tutto per farlo al meglio scendiamo giù ultimo lato ultimo lato c'è e poi cambiamo fai piedi a martello 1 2 3 4 5 6 7 8 schiaccia 8 7 6 5 4 3 2 ultimo 8 8 8 schiaccia 6 5 4 3 2 e metti giù e ricupero un po' e vedi come stai avendo già tuoi risultati i tuoi risultati i tuoi risultati domani senterai i glutei che diranno però mi hai mosso ieri ancora 2 3 4 mentre anche la testa giù se ti dà fastidio il collo schiaccio 5 6 7 8 ancora 8 7 6 5 4 3 2 ancora 8 7 6 5 4 schiaccia 3 schiaccia 2 schiaccia stop ok giriamo e questa volta andiamo giù sulla schiena sulla schiena andiamo a fare il ponte il ponte è sollevare le gambe con la testa giù ok potete anche prendere qui un cuscino mettere il cuscino sotto la testa 7 delle tranquilli e salgo ma non è dalla schiena che voglio che salite io voglio proprio sotto i glutei metti le mani sotto i glutei e cominci a schiacciare 2 3 e senti che si attivano i glutei non la schiena e gluteo 1 2 3 4 5 6 7 8 continui 8 7 6 5 4 3 2 ancora ancora ragazze dai 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 5 6 7 8 8 ultimo 8 7 6 5 4 3 2 e relax avete sentito il lavoro cominciate a sentire che c'è un'attivazione muscolare lì dove ci interessa cioè il lato B e ci sta aiutando avere un bel signor allenamento a letto stamattina proprio per partire alla grande partiamo di nuovo andiamo su e giù 2 e 3 e 4 5 6 7 8 ancora 3 8 8 7 6 scatcio in su scatcio in su scatcio in su scatcio in su scatcio in glutei contrai ancora 2 1 continui 1 e 2 e 3 e 4 5 6 7 8 ultimo 8 8 7 6 5 e 4 e 3 e 2 e relax e spero che avete sentito tanto 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 questo allenamento un allenamento di proprio direttamente appena svegli in camera da letto direttamente sono a letto per tutti per principianti per gli over ogni tanto le persone mi scrivono ma va bene anche per me questo allenamento sei a letto sei protetto non stai saltando stai proteggendo le tue articolazioni così certo che va bene per te tu quello che devi mettere è la buona volontà di iniziare inizi oggi cominci oggi poi domani poi dopo domani dopo domani ancora vedrai grandi risultati perché con la costanza i risultati arrivano sempre baci dalla gil informa con la gil 15 minuti 15 minuti per gli over per stare sempre al meglio non solo con noi stessi ma con il mondo che ci circonda fino alla prossima puntata vi saluto e ci vi aspetto sempre insieme per allenarci ciao